Bene, buonasera a tutte, siamo al quinto incontro di una serie di 10 laboratori organizzati dal progetto Periferia Digitale. Naturalmente questo progetto è pensato in maniera sufficientemente coerente, direi, dall'inizio alla fine. Ogni incontro è autonomo, indipendente, però appunto come già sapete, molti di voi sanno, naturalmente ogni volta ripetiamo delle cose, insomma, che sono necessarie, sia perché sono ricorsive, cioè hanno bisogno di essere ricordate ogni volta perché si ripresentano, sia da un punto di vista tecnico, ad esempio alcuni strumenti sono sempre gli stessi. Allora, l'incontro di oggi si intitola, vado subito in presentazione, vado, così naturalmente abbiamo l'opportunità tutti di vedere le cose. Allora, il problema è che stanno arrivando anche altre persone, in frattempo le ammetto, bene. Quindi vado in presentazione, l'incontro di oggi si intitola come valutare le informazioni, riconoscere le caratteristiche di informazioni, appunto, manipolate. Dicevo, è il quinto incontro di una serie, di una serie dedicata appunto all'information literacy. mi preme in questo momento con voi fare anche un breve riepilogo delle conoscenze, capacità e competenze sulle quali abbiamo lavorato negli incontri scorsi, velocemente, perché quello di oggi comunque è un incontro decisivo. È un incontro decisivo ai fini, diciamo, dello studio, dell'approfondimento, della competenza informativa, sia come insegnanti che come naturalmente poi attascata studenti, bambini, alunni, studenti. Allora, nel primo incontro, che si intitolava Quadri di civiltà dalle tavolette al tablet, nella scheda di progetto, vi chiederei per favore di spegnere i microfoni, potendo, perché se no rimane questa sovrapposizione audio. Dunque, dicevo, nel primo incontro, abbiate pazienza, che è successo qua? Nel primo incontro intitolato dalle tavolette al tablet, la competenza sulla quale abbiamo lavorato, la competenza sulla quale abbiamo lavorato, però mi accordo che qua è successo qualche cosa, quindi io vado a cercarla subito sul sito periferia digitale del Pesaro, perché sono sicuro che lì invece c'è un formato pdf-sapo. Nel caso voi vedete anche quello che sto facendo, andate poi a rivederlo anche voi. Allora, nel programma del primo incontro, nella mappatura delle competenze, in blu, lo trovate sempre in blu, in tutte le schede di progetto, trovate sempre la definizione di conoscenza, capacità, competenza, insomma, che abbiamo scelto di approfondire, di tematizzare. In questo caso, il primo incontro, la competenza era su sapersi orientare tra gli spazi e le collezioni fisiche e digitali, di biblioteche, librerie, archivi e musei, quindi degli istituti culturali in genere, fisici e digitali, io ricordo, appunto, perché in questo mondo si impara anche a distinguere ponti primarie, ponti secondarie, si imparano in qualche modo a gestire i quadri di civiltà attraverso degli indicatori, indicatori in questo caso librari, documentari, che ci scandiscono naturalmente l'evoluzione del tempo, la scorrere del tempo, la storia. Nel secondo incontro, invece, nel secondo incontro che è intitolato Come usare le enciclopedie e le fonti informative per imparare, in questo caso, nella mappatura delle competenze, vedete, il numero, diciamo, di punti che vengono messi in risalto sono un po', sono un po' di più. Come dire, quasi che in quel piccolo laboratorio abbiamo mobilitato, sono state mobilitate tutte le competenze, le capacità necessarie per gestire un processo informativo nel momento in cui abbiamo intenzione, come dire, abbiamo intenzione, quindi proprio un'azione intenzionale, di imparare qualche cosa. Per cui, vedete, abbiamo analizzato, sintetizzato, rielaborato, consultato, confrontato, che cosa? Naturalmente fonti informative. In questo laboratorio le fonti informative specifiche erano dizionario ed enciclopedia. In ultimo punto, vedete, sapersi orientare correttamente tra le varie parti del testo per prevederne il contenuto. Ripeto, nel secondo laboratorio la competenza veniva in qualche modo approfondita a partire da dizionario e enciclopedia, quindi opere di consultazione. Nel terzo incontro che abbiamo fatto? Abbiamo introdotto software e strategie di analisi, sintesi e comprensione del testo. Bene, in questo caso, nella maffatura delle competenze, vedete, i punti sono gli stessi di prima, perché si tratta di analizzare, sintetizzare, comprendere testi di qualsiasi tipo. Naturalmente non ci sono solo i testi di consultazione, diciamo, testi informativi. Abbiamo visto che ci sono software che ci consentono di analizzare testi di qualsiasi tipo, che sono poi i testi che sono assolutamente illustrati, elencati dentro tutta la documentazione ufficiale che orienta, che indirizza l'attività scolastica del primo e del secondo ciclo. Bene, quindi terzo incontro così, quarto incontro, quello che abbiamo fatto qualche giorno fa e che vi ripeto già sono disponibili su YouTube, dopo vi manderò il link. Il 16 luglio abbiamo invece approfondito le fonti informative, le tipologie di fonti informative. In questo caso, qual era la competenza sulla quale si andava a lavorare? era la capacità più che altro di ricercare in maniera semplice o avanzata, in modalità vocale, testuale o per immagini, in qualche modo di cercare delle fonti dove, sui cataloghi, attenzione delle biblioteche, delle biblioteche digitali. Abbiamo visto naturalmente diverse tipologie di fonti, per cui poi vi invito naturalmente ad andare a guardare il video, eventualmente se voi volesse in qualche modo ripassare. Ecco, questa premessa per dire che oggi siamo arrivati al quinto laboratorio, che si intitola niente meno che come valutare tutte queste cose che abbiamo letto, analizzato, sintetizzato, interpretato. Certo, quindi in qualche modo già valutato. Però, nello specifico, noi abbiamo bisogno di individuare alcuni criteri di valutazione che dobbiamo, naturalmente, essere capaci di padroneggiare noi, ma poi, vuol dire, tradurre, trasporre in modalità didattica per farli poi apprendere e maturare ai ragazzi della scuola del primo e del secondo ciclo. Per cui, vedete, la competenza sulla quale lavoriamo oggi è, comprende sostanzialmente, la capacità sulla base della provenienza o del bisogno informativo del momento, quindi, attenzione, della provenienza o del bisogno informativo. La provenienza è una provenienza esterna, si intende. Se io vengo sollecitato da un'informazione di cui non sentivo il bisogno, una notifica che mi arriva via social, io ho bisogno, in qualche modo, in una frazione di secondo, in pochissimi secondi, di valutare l'accuratezza, l'autorevolezza, la rilevanza, la pertinenza, la validità e la variabilità di un'immagine, di un suono o di un testo, di fiction e di non fiction. Perché, pensateci, in effetti, nelle notifiche, anche le notifiche che ci arrivano sui social, i contenuti sono immagini, suoni, testi, più o meno, naturalmente, veritieri, più o meno verificabili. Bene, il laboratorio di oggi è dedicato a questo tema. Come iniziamo? Come al solito, iniziamo facendo un brainstorming. Ormai avete capito che, insomma, io, per lo meno, adotto questa strategia didattica, c'è di cercare di ancorare le cose che poi vi farò vedere, che vi spiegherò in una ventina, trentina di minuti complessivamente, cercate di ancorarle su le vostre preconoscenze, o direi, in questo caso, oggi, sui vostri pregiudizi e i vostri preconcetti. Giudizi e concetti sono naturalmente due, come dire, due criteri importantissimi nell'esercizio dello spirito del pensiero critico. Bene, quindi iniziamo subito il brainstorming collaborativo e, come al solito, io vado su, lo dico anzi per chi non c'era, vado su Google e cerco, lo faccio proprio per esemplificare, naturalmente, a tutti i presenti, cerco Mentimeter, che è un'applicazione web che consente di fare delle presentazioni, consente di fare dei piccoli sondaggi, delle indagini. Come funziona? Intanto è gratuita nella sua funzionalità di base, insomma, quindi non vi costa nulla e vi consente, insomma, di fare dei lavori sufficienti, direi, se non altro per una scuola di information literacy propedeutica. Poi, chiaro, se qualcuno vuole fare delle cose più avanzate, ci sono strumenti anche più potenti di questo, però, intanto, io creo una nuova presentazione e la chiamo che cos'è? La chiamo con la domanda che poi vi voglio porre, alla quale, insomma, vi chiedo di rispondere. Che cos'è una bufala? crea presentazione. Bene, mi fa scegliere il tipo di modalità di visualizzazione delle risposte, io scelgo Word Cloud, mi interessa creare una nuvola di parole, cioè sostanzialmente fare in modo che tutte le vostre risposte che coincidono vengono, che vengano aggregate. Ognuno di voi ha la possibilità di rispondere più volte. Ogni volta avete tre opzioni, potete scegliere naturalmente tutte e tre. Come fate a rispondere? Adesso vado in presentazione e vi faccio vedere intanto la schermata sulla quale noi vedremo man mano i risultati. Dopodiché, vedete, questo è il codice di cui ho bisogno. Lo seleziono, lo copio, esco da questa presentazione, apro una nuova scheda e adesso questo è quello che dovete fare voi. Scrivere www.menti.com, premere invio, vi compare questa casellina in cui dovete inserire il codice che avete copiato, io ce l'ho in memoria, lo metto qua, 832498, submit. Dopodiché, vedete, si aprono queste tre caselline nelle quali posso inserire tre risposte fino ad un massimo di 25 caratteri e poi cliccare ed inviare. Man mano che le vostre risposte arrivano, e vi chiedo naturalmente di farlo adesso, in diretta, noi tutti vediamo i risultati presentati man mano su questa, chiamiamola lavagna interattiva. Se non è chiaro, accendete il microfono e chiedetemi pure. Vedo che cominciano ad arrivare delle risposte, quindi sono fiducioso. Cos'è una bufala? Una notizia falsa. Altre risposte? notizia falsa o impondata? Fake news? Ignoranza informativa? Informazione inesatta? Fonte non controllata? Ecco, io vi chiederei di esprimervi più ampiamente possibile, di non tenere solo un punto di vista. 50 sfumature di bufala. Cerchiamo di provate, insomma, a trovare più significati possibile. Sta andando bene, naturalmente, però ecco, già è arrivata una risposta che sembra, come dire, rendere giustizia alle parole. Chiamo bufala una bufala. Chiamo bufala la bufala, una bufala è un animale, la femmina di una specie animale, in effetti. Bufala, chiamiamo anche la... vi devo suggerire queste cose che i bambini, o i ragazzi, o gli studenti, insomma, naturalmente esprimono abbastanza liberamente e quasi da subito. Mozzarella. Ecco, sì, una bufala, mozzarella di bufala, giustamente. Esatto. Quindi una bufala in realtà è un animale che fa una mozzarella, anche piuttosto buona. E non solo una mozzarella, cioè di tutto, veramente. Tutte sono... sono tutti buoni i prodotti fatti come il latte di quell'animale. Bene. Naturalmente io vi faccio vedere questa cosa, non perché da un punto di vista, diciamo, state imparando vissà che cosa... sulle bufale. E mi interessa anche farvi vedere come funziona lo strumento tecnico. E potete essere anche in presenza, in aula, utilizzare la LIM come lavagna di visualizzazione collettiva e poi far lavorare i ragazzi sui portatili o sui telefonini, farvi rispondere. E mentre loro rispondono, senza sapere chi siete, poi, tra l'altro. Vedete, io ho già accumulato 15 risposte, che sono un bel bottino, insomma. Naturalmente, se voi volete sapere chi sono i rispondenti per ogni singola risposta, dovreste chiedere, purtroppo, approfondito questa cosa, non c'è modo di sapere, di gestire le identità precise dei rispondenti. È pensato per essere anonimo come uso della piattaforma, che nei sondaggi va benissimo, naturalmente. Però se voi dovete fare un controllo sulla padronanza lessicale dei vostri ragazzi, sulla padronanza ortografica, eccetera, è chiaro che rischiate, naturalmente, di perdere l'aggancio tra la parola che avete sulla lavagna e chi ha risposto, insomma. Comunque, vabbè, voi siete tutte brave sia in ortografia che in grammatica, insomma, e quindi non è quello il problema. Però vedete, un bel po' di risposte. Le risposte più gettonate, naturalmente, sono notizia pazza. Animale, animale è proprio stato detto pochissime volte. Allora, bene, bene. Allora, com'è possibile che un animale così generoso... Vedo che continuate a rispondere. però a questo punto vi proporrei di... di finire questo giochino perché abbiamo bisogno di... di portarci avanti, appunto, chiedendovi come mai un animale così generoso, che fa una mozzarella tanto buona con la quale poi ci condiamo una pizza più buona di tutti i tempi... sono poco di parte. Allora, com'è possibile che un animale così generoso si ritrovi appioppata una reputazione tanto pessima? Ecco, questa è un'altra domanda che voi potete porre, naturalmente, ai vostri ragazzi utilizzando un altro mentimeter, un'altra slide come questa. Adesso io, naturalmente, non sto a rifare lo stesso esercizio con voi, però ecco, con i ragazzi, ripeto, in presenza o in un'aula digitale, questo esercizio può essere fatto uguale, identico. Se in classe non avete niente di elettronico, niente di digitale, potete utilizzare tranquillamente una lavagna con gli mobili o una lavagna, insomma, di Ardesia e usare i gessetti, insomma, e fare lo stesso identico lavoro di raccolta di punti di vista e di parole, insomma. La domanda, la domanda, la questione resta la stessa. Com'è possibile che un animale così generoso abbia una reputazione tanto pessima? E la risposta ce la dà niente poco di meno che l'Accademia della Crusca. Bufala, quindi non Tommaso Paiano, mi raccomando, ma secondo il vocabolario della Crusca, bufala deriva dall'espressione menare per il naso come una bufala, cioè portare a spasso l'interlocutore trascinandolo, come si fa, con i buoi e i bufali, per l'anello attaccato al naso. Ecco qual è il punto. Quando noi condividiamo, come se non ci fosse un domani, senza alcuno spirito critico o un'informazione, senza sapere bene appunto dove proviene, se ha una qualità, se ha senso oppure no, ecco noi ci comportiamo come quegli animali che si fanno attaccare un anello al naso e che dolorosamente, io immagino, vengono poi trascinati in giro con una corda impilata appunto in questo anello. Ecco, questo ci dice l'Accademia della Crusca e come fonte, direi, etimologica mi basta, insomma, è sufficiente, anche perché poi considerate che voi state lavorando magari con dei bambini di primaria, degli alunni, degli studenti, insomma, scuole medie superiori, capite che naturalmente è importante darla questa notizia ma verrà poi recepita e ancorata nelle preconoscenze dei ragazzi in maniera anche piuttosto diversa. Se sono in un liceo capite che l'importanza dell'Accademia della Crusca probabilmente viene sottolineata sempre di più. Bene, a questo punto abbiamo finito con la parte dedicata al brainstorming e sul significato delle parole. Questa cosa io ve la propongo a voi perché vorrei che la presentaste anche ai ragazzi. La presentaste anche ai ragazzi l'origine di questa parola perché poi ci sono altre sfumature di bufala che ogni volta specificano degli aspetti che sono tipici di certe situazioni. Quando parliamo di bufala intendiamo genericamente qualsiasi cosa, però attenzione, un conto è la disinformazione, che è un'attività malevola e malefica, direi, piuttosto grave. Un conto è un falso storico, un falso letterario, un falso scientifico, un conto è una leggenda metropolitana, un conto è una leggenda metropolitana dalla quale noi probabilmente, dal concetto dal quale noi deriviamo l'idea di bufala. Una volta le bufale erano le leggende metropolitane sostanzialmente, che erano un fenomeno folcloristico, una modalità espressiva del popolo e che quindi veniva anche studiata addirittura dagli antropologi. In Italia abbiamo degli studi molto belli di antropologia legati appunto a queste espressioni popolari, più o meno popolari. Dunque, vi ricordo, vi invito di lavorare sulle varie declinazioni semantiche di questa parola, bufala. Bene, adesso è arrivato il momento però di fare un gioco. Io faccio il bufalaro a questo punto e voi fate le bufale, o perlomeno io ci provo a portarvi dove voglio io e poi non è affatto detto che quello che io vado poi sostenendo sia vero o falso. Cioè questo dovete in qualche modo poi stabilirlo voi, lascio a voi la massima libertà di espressione. Come faccio a lavorare in diretta, in questo momento, in maniera diciamo collaborativa? Non vi divido per gruppi perché lavorare per gruppi online è un'attività che richiede molto più tempo di preparazione e di esecuzione di 90 minuti, insomma. Ecco, non possiamo pensare di riuscire in 90 minuti ad organizzare un grande lavoro collaborativo, ce ne vogliono molto di più di ore. Però ecco, il laboratorio di oggi può essere benissimo ampliato, esteso nel corso del tempo, dedicando magari maggiore attenzione a tutti i dettagli che io vi dirò invece in poco tempo. Bene, come funziona adesso l'esercizio collaborativo, vado dentro la mia solita cartella con i materiali dei corsi e qua dentro, come al solito, io creo una nuova lavagna con uno strumento che si chiama Google Jamboard, che trovate sempre nel menu a sinistra di Drive. Drive, vi ricordo, di considerarlo non solo una cartella nella quale salvate i vostri file preferiti, ma uno, uno spazio collaborativo, che è un po' diverso, certo salviamo dei file, ma i file là dentro in realtà sono dei file che possono diventare collaborativi. Quindi Google Jamboard, creo e condivido la lavagna, creo e condivido la lavagna, la connessione mi aiuta quindi anche abbastanza veloce, vedete qua c'è una lavagna bianca con a sinistra il solito elenco di strumenti, sono sei strumenti, quindi facili facili da usare. A questo punto io il file lo chiamo vero o falso? Che è la domanda che vi pongo naturalmente. E allora, a cosa dovete, questa è la domanda, si tratta di una cosa vera o si tratta di una cosa falsa? Su che cosa vi dovete esprimere, su delle immagini che io carico qua dentro. Allora, seleziona file dal dispositivo, ce le ho salvate sul mio computer, allora per dire, nella prima lavagna metto la foto di un bel topo. Ok? Poi nella seconda lavagna invece, che vado a crearmi in automatico da qua, vedete, con una facilità insomma assoluta, carico invece lo squalo nella terza slide, terza, quarta, quinta e sesta. Ve ne metto addirittura sei, così potete divertirvi qualche minuto. E vabbè, intanto continuo a caricare le altre. Vi faccio vedere come funziona. Ecco, anche preparare una lezione come questa non è difficile, diciamo. Ecco, poi sempre che vi piaccia, sempre che la troviate significativa per le vostre attività a scuola o in biblioteca, naturalmente l'attività di valutazione, parlo mentre faccio vedere questa cosa, l'attività di valutazione, attenzione, non è un'attività semplice che si, come dire, può chiudere in un laboratorio di un'ora e mezza. Quando parliamo di valutazione parliamo forse dell'attività più importante, della competenza più importante che noi dobbiamo attivare tutte le volte che abbiamo a che fare con un'informazione. E quindi richiede, richiede mesi, anni di studio e di approfondimento. Poi vi darò naturalmente alcuni criteri di valutazione che secondo me vale la pena curare. Vedo che in chat qualcuno ha risposto. Ah, non vedete me? Scusate. Chi non vede me? Abbiate pazienza. Allora chiudo un attimo la presentazione perché temo... voi vedete me parlare? Sì, adesso sì. Adesso sì, ma prima? Vedevamo la schermata con cui caricavi. Io vedevo anche prima, anche lei in alto, barra in alto. Ok, nella barra in alto. Vabbè, facciamo una cosa, facciamo un tanto cambio visualizzazione. Ritorno sulla condivisione dello schermo. C'è Letizia che mi diceva che vedeva solo me non vedeva invece la presentazione. Adesso Letizia la vedi? Vediamo. Esatto. Adesso la vedi? Ok, bene. Mi sembra che adesso la veda anche lei. Allora, attenzione. Sì, ora la vedo, grazie. Perfetto, perfetto. Scusami Letizia, ma purtroppo appunto essendo da solo non riesco talvolta a gestire tutti gli inconvenienti digitali. No, attenzione, per me mi serve anche a scopo didattico questa cosa perché, vedete, se dovete fare delle lezioni in aula digitale, sono talvolta molto più complicate di quanto invece loro possano essere in presenza. Non voglio naturalmente banalizzare nulla, ecco, però online essere in due fa sempre solo che è bene. Uno che gestisce la parte tecnica, un altro naturalmente che gestisce anche a rotazione, insomma, ecco, alternandosi gli aspetti, diciamo, più strettamente didattici. Allora, vedete, abbiamo qua messo in bella vista, ho messo in bella vista tutte queste fotografie, adesso voi dovete dirmi se si tratta di una cosa vera o di una cosa falsa. Come fate? Accendete i microfoni e parliamo confusamente tutti quanti insieme? No. Naturalmente questa lavagna mi dà l'opportunità, vedete, qua sulla sinistra, di inserire delle note adesive. Le note adesive sono dei post-it. Scrivo qualunque cosa dentro, salvo, vedete, e salva su ogni singola slide, lavagna, insomma, chiamiamolo più propriamente lavagna, adesso cambia anche colore, vedete, salva naturalmente il mio punto di vista, che adesso è scritto naturalmente solo a titolo di esempio. Come fate a collaborare voi con me? Allora, le modalità sono due. O vi invito chiedendovi i vostri indirizzi Gmail, e quindi voi entrate nell'applicazione in base poi ai poteri, superpoteri che io vi concedo. Oppure, cosa molto più semplice, copio l'indirizzo nella barra del browser, lo copio, e ve lo incollo dentro la chat. Lo metto dentro la chat dove voi... Allora, dove voi... Per voi è sufficiente cliccare sul link che vi ho mandato ed entrare con tutti i superpoteri ma in modalità anonima. Quindi potete esprimervi liberamente su queste sei lavagne, potete esprimervi liberamente dicendomi se secondo voi si trattano delle cose vere o delle cose false. Io vi ho già detto che faccio la parte del bufalaro, ma potevo anche non dirvelo, insomma. Adesso vi ho svelato anche il trucco, vi ho svelato. Però chissà, si tratta di cose vere o di cose false? Ce la fa... ecco, fake. Potete anche scrivere qualcosa in più, eh? Vero o falso? Va bene. Cioè, nel senso, la risposta binaria 0-1 va pure bene, insomma. Ecco, però vi chiederei a questo punto uno sforzo di analisi grammaticale, di analisi linguistica dell'immagine. C'è una, come dire, una branca della linguistica testuale, appunto, che si occupa delle immagini. E analizzare un'immagine è possibile farlo, anche per un testo altabetico, appunto andando a vederne sia l'aspetto che il contenuto. Quando parliamo di contenuto, naturalmente, noi possiamo fare un'analisi grammaticale. Ad esempio, scomporre questa immagine dello squalo, o anche le altre che adesso visualizzo qua in alto, scomporla in tanti piccoli pezzettini e cercare di capire se c'è un nesso logico tra un elemento e un altro. Adesso io, naturalmente, vi do qualche indizio, eh? Solamente. Quindi, che ne so, di un'immagine del genere potete analizzare la scena, una sottoscena, se ci sono, naturalmente, delle parole, ma in questo caso, purtroppo, io vi ho dato solo un'immagine. Attenzione, non ci sono parole alfabetiche, diciamo, ecco. Quindi diventa estremamente, come dire, complesso analizzare l'immagine. Analizzare un'immagine può essere anche molto più complesso di un testo. Ripeto, anche solamente, forse anche solamente dal punto di vista grammaticale, di riconoscere il contesto, il discorso che viene fatto da questa immagine, e poi le varie scene e sottoscene, naturalmente, può essere abbastanza complesso. Ci vuole una certa abilità, e con i ragazzi, con i bambini, noi ci lavoriamo già, naturalmente, su queste cose, ma varrebbe la pena anche farlo, proprio per sottolineare l'importanza di valutare le informazioni. Vediamo se state passando da una scheda a un'altra. Sì, il topo è falso. Qualcuno di bufala, falso, falso, falso. Siete tutti fatti, tutti dite che è falso, falsissimo. Spero vivamente sia falso. A bell'occhi l'hanno trovato, questo qua. Vicino Fano, in periferia di Fano. I fotografi, vediamo un po', realistica. Sembra realistica. Ah, ok. Guardate un po' cosa sto facendo. Provo a riordinare le vostre risposte. Può capitare che dei post-it si sovrappongano agli altri. Tenetene conto quando lavorate con i vostri ragazzi, perché qualcuno potrebbe aver risposto e non riuscite a visualizzare bene il post-it che lui ha inserito. Quindi abbiamo risposte più o meno su qualsiasi immagine. Vediamo. Falso, falso, falso. E chi vi dice che è falso? Potrebbe essere vero. Potrebbe essere vero. Vedete, qualche dubbio naturalmente vi viene. Ma perché, voglio dire, percepiamo delle cose che, appunto, possono stare dentro a un discorso sufficientemente realistico. Perché deve essere fiction. Potrebbe essere anche non fiction. Un orrore, un orrore. Bene, orribile. Ecco. Allora, su questo esercizio, scusatemi, io con voi adotto, come dire, la strategia dell'esempio e poi della metariflessione. Con i ragazzi, non è che tutte le volte intervengo spiegando sempre cosa c'è dietro, tutto quanto. Cioè, mi limito solamente a farli anche un po' divertire, per cui prendo anche le loro risposte così come vengono. Dunque, dunque, io mi ritengo soddisfatto per la vostra collaborazione. Siete state molto, molto, molto brave ed espressive. I ragazzi, naturalmente, sono anche molto, ma molto più, come dire, spumeggianti, nelle risposte. Alcune possono essere davvero divertenti, insomma. Allora, adesso, punto successivo. Vediamo un po'. Punto successivo è questo. Vado sulla slide vuota, la numero 7, e qua inserisco una domanda. La inserisco in giallo. che cosa fareste per dimostrare il vostro punto di vista? Sulle immagini, naturalmente, che io vi ho sottoposto poco fa. che tipo di lavoro fareste? State parlando con me, io sono il vostro interlocutore, vi posso dire banalmente, guardate, a me, dei vostri punti di vista, non mi importa nulla, per me si tratta di cose vere, verissime, pericolose, che stanno minacciando l'umanità. non mi bastano le tue perconoscenze, la tua percezione, la filosofia ci insegna a dubitare della percezione, come dire, sensibile, ogni tanto, insomma, ogni tanto vale la pena dubitare, non affidarsi solo alla prima tentazione, ma ragionare ogni tanto. e, ecco, quindi, che cosa fareste per dimostrarvi il vostro punto di vista? Farei una ricerca per immagini. Ricerca per immagini su Google. Eh, ma siete preparatissime, voi sapete già tutto, sapete. Falso, qualcuno risponde anche nella chat, si tratta. Analisi accurata delle immagini, copierei l'indirizzo e lo verificherei in Google. Proverei a cercare in rete da dove è stata estrapolata all'immagine. Attenzione, siamo sempre alle solite. Analisi, vediamo un po' cosa risponde. Analisi dei dettagli. Ricerca tramite internet delle foto, anche con upload, per dimostrare che la stessa sia stata già utilizzata in un altro contesto. Anche qua, provate a differenziare un pochettino le risposte. Provate a immaginare che non avete sempre a disposizione tipo un telefonino collegato a internet o un computer collegato a internet. E magari neanche un libro e neanche una biblioteca. Supponiamo che vivete in un villaggio sperduto e vi arriva qualcuno, vi recapita una fotografia dentro una lettera tipo un ragno gigante che sta attaccato sulla casa del vicino. Cosa fate? Ricerca per immagini su Google e anche per parole chiave in italiano e in inglese. Certo, certo. Va bene, sono tutte risposte sono tutte risposte super o sarei il buonsenso. Ecco sì, il buonsenso, sì, certo, va bene. Il buonsenso talvolta però può essere anche, come dire, può non essere sufficiente talvolta. perché poi come se riusciamo insomma a vedere tutti almeno un po' di casi vedete che talvolta può capitare che il buonsenso non ce l'hanno tutti, perlomeno i nostri interlocutori potrebbero non avercelo e quindi non è sufficiente per dimostrare come stanno le cose. Osservazione dell'immagine, controllo della data di pubblicazione, autorevolezza del sito e della fonte. Bene. Allora, vabbè, tutti andreste a cercare delle informazioni e vedo continuano ad arrivare le risposte. Bene, questo mi piace, questa collaborazione mi piace, sarebbe bello avere più tempo a disposizione da poter dedicare anche a questi lavori di manipolazione digitale dell'informazione che stiamo facendo perché impariamo anche a padroneggiare l'ambiente di apprendimento. Verifico le mie conoscenze nel merito, analisi della fotografia, per esempio il regno è zocco, non ha otto zappe. Ecco, qua viene fuori come dire tutta la saggezza scientifica che basta aver fatto la scuola elementare già per saperlo naturalmente. Senza offesa, ma è come dire, è assolutamente così. Il regno ha dei problemi di salute. Analizzare l'immagine e trovare dettagli che confermano che non sia un fotomontaggio. Cercherei più fonti che confermasero l'immagine o il dato. Se ne trovassi una sola dubiterei. Bene. Bene. Allora, guardate, io davvero mi ritengo soddisfatto della qualità delle vostre risposte, però vi aggiungo, anzi faccio così, chiudo un attimo la condivisione e cerco i vostri visi, cerco i vostri visi perché, come dire, vorrei un attimo, vorrei un attimo farvi presente alcuni dettagli. Allora, voi rispondete, avete risposto molto bene, in maniera articolata, come rispondono i bambini, come rispondono i ragazzi che non, che hanno, come dire, che vivono in questa società, vivono in questa società dell'informazione e quindi spontaneamente dicono, ok, cosa faccio? Faccio una ricerca, più o meno complessa, però in realtà davanti a un problema, davanti a una questione, come dire, delicata, come riconoscere se c'è una manipolazione genetica, ad esempio, tra un topo e un serpente, io la prima cosa che faccio, vabbè, se sono abbastanza bravo vado a fare una ricerca, bene, ma in realtà se sono un bambino, sono un ragazzo, la prima cosa che mi vorrebbe fare è chiedere a un esperto e non a caso i ragazzi, come dire, vanno poi a scuola, li poi mandiamo a scuola per 19 anni, più o meno, obbligatoriamente, perché hanno disposizione degli esperti che rispondono eventualmente a dei loro problemi o che li aiutano, insomma, li educano a provare le risposte anche importanti, rilevanti, e quindi io consiglio sempre, davanti a un problema come questo, di rivolgersi a un esperto. Se l'esperto non c'è, può capitare, ci si può rivolgere benissimo alla comunità di appartenenza, può essere il paesino, il villaggio, se ne viene sperduto in mezzo l'appennino, può essere la comunità digitale, ad esempio questa, nella quale stiamo lavorando noi. Certamente, io, se continuo a lavorare su questa cosa oggi con voi, sono sicuro che imparerò tante cose, anche tecniche che non avevo preso in considerazione su come si lavora con l'informazione, sono sicurissimo di questo. Quindi, in primo luogo consiglio sempre di indicare l'esperto, in secondo luogo naturalmente rivolgersi alla comunità di appartenenza, immaginate, i ragazzi sono in classe, rivolgetevi ai vostri compagni, quando non sapete qualche cosa magari vi possono aiutare a trovare la risposta. La terza opzione è quella di andare ad informarsi. La terza opzione è quella di andare ad informarsi, non è necessariamente la prima. Certo, io sono qua con voi oggi perché devo prendere in considerazione questa terza opzione, cioè come impariamo ad informarci, come facciamo uso dell'informazione, come possiamo insegnare a qualcuno, grande o piccolo che sia, a usare lo spirito critico tutte le volte che viene a contatto o con un'informazione che ne abbia il bisogno lui internamente o che gli venga data i bisogni suoi oppure che arrivi da una sollecitazione esterna. Sono sempre queste le tre dimensioni direi dell'apprendimento che terei in considerazione. Esperto, comunità e informazione. Bene, a questo punto voi avete risposto già fin troppo bene su cosa fareste per andare ad informarsi, però visto che magari vi può interessare vedere come poterlo fare con i vostri ragazzi usando un'aula digitale io vi faccio vedere come mi comporterei appunto, come mi comporterei sostanzialmente in questo modo. Torno in presentazione, torno in presentazione e stavolta, allora stavolta apro un browser nel quale cerco il mio un motore di ricerca uno a caso www.google.com ce ne sono tanti altri vedete io non uso anche altri di motori di ricerca non sono necessariamente tutti uguali e tutti corretti. Vabbè, intanto usiamo Google che diciamo quella la porta di accesso al sapere ormai sembra diventato questa piccola casellina. Bene, voglio sapere qualche cosa in più su quel topo topo serpente. Se io scrivo qua topo serpente cosa salta fuori? Ecco, vedete, mi è andata bene nel primo risultato che ho trovato ho trovato il ho trovato il topo ho trovato l'immagine che mi interessa. Attenzione, ho scritto topo serpente cioè ho fatto un'analisi dell'immagine e ho distinto la testa del topo e la testa e come dire il corpo del serpente ma se io avessi scritto che ne so topo brutto saltavano fuori altre cose. Se avessi scritto serpente serpente viscido perché mi fa orrore sarebbero saltati fuori altri risultati quindi vedete già solo decodificando un minimo l'immagine quindi scomponendo l'immagine nelle varie sottoscene sotto elementi ecco io riesco già a trovare l'immagine attenzione fino a qui io sto usando delle parole sto usando delle parole inteso come alfabetiche il risultato mi è andato anche abbastanza bene tenete conto tenete conto che le prime volte che fate gli esercizi con i ragazzi può capitare che loro non riescano a trovare quanto voi gli state dicendo di cercare quindi non date nulla per scontato non date nulla per scontato un altro modo da suggerire per fare le ricerche ai ragazzi in maniera come dire subito un po' sverigativa se ho come dire sono convinto che si tratta di una cosa falsa perché a scuola mi hanno insegnato che non c'è compatibilità genetica tra un topo e un serpente già che sono proprio nemici per la pelle come dire è proprio difficile immaginarli accoppiati e allora a questo punto mi basterebbe scrivere che ne so tipo topo serpente bufala fake e sicuramente sicuramente i risultati nelle immagini tirerebbero fuori altri risultati forse in questo caso è sempre lo stesso sito qua è a latina quello di prima non ho guardato forse anche quello di prima era a latina scusate io tutte le volte che faccio questo esercizio a zero la cronologia di google perché google naturalmente salva dentro dentro il mio profilo tutte le ricerche che faccio quindi di solito tende a darmi sempre le solite risposte allora in fase didattica mi conviene sempre svuotare la cronologia per evitare di trovare sempre le stesse cose quindi non sapevo che avrei trovato queste immagini queste immagini qua questi contenuti dopo serpente lo ricerco un attimo sempre con le parole ok questa è un'opzione abbiamo detto cercare per parole ma in realtà esiste un'altra strategia e voi l'avete indicata già ampiamente però lo faccio vedere perché se tra di voi qualcuno non dovesse conoscerla sicuramente può essere utile trovata l'immagine attenzione trovata l'immagine io l'immagine se ci clicco col tasto destro o la scarico sul mio computer la posso salvare con nome sul mio computer oppure vedete posso copiare l'indirizzo posso copiare l'indirizzo dell'immagine bene una volta che ho copiato l'indirizzo dell'immagine torno su google e qua dentro google mi fa cercare inserendo delle lettere dei numeri un codice alfanumerico ma se clicco in alto a destra su immagini la casellina di ricerca resta sempre la stessa ma in più compare una macchinetta fotografica che se ci passo sopra con il mouse mi dice che posso fare una ricerca tramite immagini ci clicco sopra ecco a questo punto mi propone due opzioni o incollo l'indirizzo che ho copiato poco fa oppure carico un'immagine dal mio computer potrei fare l'una o l'altra io adesso ho copiato l'indirizzo lo incollo qua dentro e attenzione attenzione ho copiato un indirizzo vedete che finisce senza estensione quindi sono già sicuro che quando vado a fare ricerca non troverà nulla no invece in questo caso l'ha trovato lo stesso attenzione colpo di scena senza estensione senza jpeg senza png senza un'estensione di un file di immagine potrebbe non funzionare la ricerca in questo caso non so per quale mistero lui me l'abbia fatta funzionare lo stesso in ogni caso qua in cima lui mi mette la immagine che io ho utilizzato come ponte come immagine chiave come immagine chiave dopodiché tra i risultati a questo punto io ho a disposizione vedete qualcosa come 219 risultati che hanno questa immagine come che presentano almeno una volta questa immagine ognuno di questi siti utilizza almeno una volta questa immagine se tutto va bene in realtà questo tipo di ricerca dovrebbe mettermi a disposizione tutti i siti tutti i siti la riunione stamattina scusate bisogna che bisogna che può chiudere il microfono gentilmente forse l'ho già fatto bene allora è probabile che mi abbia tirato fuori addirittura tutti i siti che sono salvati non su internet ma su web perché Google indicizza solo il 3-4% di tutto quello che c'è su web non pensate che vi dà l'accesso a tutto quanto e niente io devo un attimo tornare in chiudo un attimo la presentazione e cerco di assicurarmi che di Filomena Piccioni ecco metto muto poi dopo la ripristinerò eventualmente fate pazienza se no rimane praticamente sovrapposto all'audio non fa molto piacere allora vedete qua tutti i siti che ha tirato fuori ci sono siti in lingue anche per me incomprensibili in questo caso saranno arabo non so sarà ebraico insomma lingue che si leggono da destra verso sinistra tra l'altro bene bene ho trovato tutte queste cose ma attenzione attenzione come faccio a far lavorare i ragazzi su tutti questi risultati è praticamente impossibile in realtà il compito di il compito autentico da proporre ai ragazzi è quello di selezionare questa ve la potete segnare almeno due fonti che sostengono che questa immagine rappresenta una scena vera e due fonti che invece sostengono che si tratta di una cosa falsa per due fonti quando siamo sul web noi intendiamo presumibilmente due siti web due articoli di quotidiano web due articoli di rivista web comunque contenuti che siano raggiungibili tramite un browser quindi mi raccomando non chiedete di cercare qualsiasi cosa senza specificare perché in questo modo i ragazzi e non solo i ragazzi tutti quanti fanno che si accontentano della prima risorsa che gli dà ragione cioè avevo detto che si tratta di una cosa falsa quindi bene ho trovato il sito che dice che è falsa sto a posto ho già soddisfatto il mio bisogno autoreferenziale in realtà il compito autentico è quello di metterti in discussione cioè fino a prova contraria il tuo giudizio può essere sempre un pregiudizio e allora a questo punto siccome io non è che ti devo dare la risposta vera o falsa io sto facendo come dire sto lavorando sto facendo didattica non sono un come devo dire un sacerdote che vi deve dare la verità io devo lavorare sullo spirito critico quindi dico ai ragazzi mi raccomando almeno se non ce la fate a trovarne due e due trovate almeno una e una bene come fanno a trovarne una e una voi capite che qua con questa già solo con la ricerca inversa per immagini di fonti ce ne sono sufficienti per poterle selezionare una che dice che è vera una che è falsa allora prendiamo ad esempio la prima prendiamo la prima il fatto quotidiano ci dice che arriva direttamente dall'Australia il primo serpente topo creato in laboratorio da alcuni ricercatori di Melbourne abbiamo unito i geni dei due animali ecco vedete se lo dice il fatto quotidiano voglio dire sarà vera tutti voi avete detto che si trattava di una cosa falsa guardate ho preso solo la prima risposta che Google naturalmente con la ricerca inversa tutti questi espedienti comunque vedete la risposta che Google mi ha messo a disposizione è questo bene che cosa c'è che non va in questo tipo di in questo tipo di articolo ecco è quello che noi dobbiamo insegnare a fare ai ragazzi concentrandosi prima ancora che sul contenuto cioè sul testo vediamo un po' e arrivano le risposte in chat arrivano lo so adesso passatemi naturalmente lo scherzo qualcuno se ne è accorto che ci è stato uno scherzo ve lo dico subito non è il fatto quotidiano ma è il fatto quotidiano attenzione attenzione qualcuno di voi adulto preparato se ne è accorto magari se ne accorgono anche i ragazzi spesso i ragazzi però sanno che il fatto quotidiano è un giornale che hanno sentito parlare quando leggono la testata qua leggi fatto quotidiano diciamocelo chiaramente devi essere proprio deve proprio caderti l'occhio sullo scambio di lettere che non è significativo dal punto di vista della lettura già che noi leggiamo parole intere non leggiamo ogni singola lettera quindi il fatto quotidiano che cos'è il fatto quotidiano è il titolo del blog del giornale ma attenzione questo è il nome del giornale ma il titolo dell'articolo è questo e già vedete dentro al titolo dell'articolo voi trovate un maiuscolo normalmente quando ci sono incorporati all'interno del testo minuscolo dei maiuscoli in questo modo voi già potete avere un primo segnale che si tratta di una notizia falsa ma non lo devo dire a voi voi lo dovete spiegare ai ragazzi che è stata fatta quindi ai ragazzi vi dovete spiegare che va subito preso in considerazione il nome del giornale del quotidiano online che stiamo consultando il titolo dell'articolo la data e l'autore almeno il titolo l'autore e la data sono tre elementi di qualsiasi informazione che vanno assolutamente messi in evidenza nella didattica in qualsiasi momento può capitare mi capita spesso lavorando in biblioteca di avere a che fare anche con ragazzi di liceo che non è detto che riescano facilmente a districarsi tra il ruolo tra la titolazione l'autore l'editore la data ci sono elementi che non sempre sono acquisiti e che voi dovete dare per scontati perché dipende molto da quanto ci si esercita in questo tipo di meta lettura del testo ecco questo fa parte è paratestuale rispetto al contenuto che questo qua che andrebbe poi letto compreso e sintetizzato sintetizzato e compreso ecco voi tenete conto che dove bisogna sempre dare una lettura del del contesto quindi fare una meta lettura gli elementi minimi direi per valutare un'informazione sono quelli di identificare eventuale autore il titolo e la data la data perché è importante la data è importante perché in questo caso ad esempio questo è sempre l'esito della ricerca della ricerca inversa che ho fatto per immagini se io volessi andare a scoprire qual è il sì primo sito e il primo autore che ha pubblicato magari questa immagine io potrei farlo velocissimamente andando su strumenti quando clicco su strumenti viene fuori un sottomenu che mi consente di specificare il periodo interessato allora supponiamo che io voglia verificare nell'ultimo anno clicco su ultimo anno e mi seleziona solo i siti che l'hanno pubblicato nell'ultimo anno ma se mi interessa sapere la più antica il sito diciamo più più antico che mi ha che ha messo a disposizione questa immagine e che presumibilmente ha creato poi il il flusso fake ha messo in circolazione il fake e devo fare una ricerca allora la ricerca sul nell'intervallo di date personalizzato di Google attenzione richiede l'uso della sintassi americana nelle date non quella italiana se io scrivo primo gennaio 2010 faccio per dire in realtà capisce in questo caso capisce scusate gennaio primo vabbè no scusate questo è proprio l'esempio più no non ho fatto non ho fatto un bel esempio supponiamo che io voglia partire da oggi supponiamo che io voglia partire da oggi oggi siamo al 20 in realtà devo scrivere 07 20 così è più chiaro supponiamo la data del 2010 ok fino al 31 fino al 31 12 2010 quindi devo scrivere il mese il giorno e l'anno ok fammi vedere se dal 7 luglio 2010 al 31 dicembre 2010 questa immagine era in circolazione e salta fuori che no non era in circolazione impossibile trovare questa immagine non la trova sostanzialmente gli dà dei risultati che sembrano assomigliarsi solo come colore per cui andate a cambiare mano a mano andate a cambiare la data finale a questo punto mettete 2011 vai e chissà se salta fuori ecco qua guardate un po' la prima volta che è saltato fuori questa immagine è il 30 ottobre 2011 presumibilmente insomma adesso non devo fare una ricerca su queste immagini non devo passare tutto il mio tempo a fare una ricerca su queste immagini specifica mi serve come esempio da fare ai vostri ragazzi per abituarli a non arrendersi mai quando devono andare a trovare l'origine di un messaggio di un'informazione non solo l'origine di un messaggio di un'informazione ma anche eventualmente la responsabilità quindi l'autore qualora questo sia disponibile attenzione fino ad ora abbiamo fatto questi esempi abbiamo preso abbiamo fatto un po' di brainstorming dopodiché vi ho fatto vedere come fare una ricerca tramite parole chiave poi come fare una ricerca tramite immagini chiave ma se io ho un video ad esempio da analizzare vorrei valutare la veridicità di un video come faccio allora le risposte naturalmente su internet sono tante adesso io ve ne faccio vedere solo una veloce veloce clicco su google apro sempre il solito motore di ricerca stavolta cerco un database cioè un'applicazione specifica si chiama youtube data viewer eccola qua cos'è youtube data viewer è praticamente uno strumento messo a disposizione su questo sito vedete citizen evidence amnesty usa clicco su extract metadata insomma salta fuori un sito di amnesty international americana mette a disposizione un motore di ricerca nel quale inserire attenzione non gli indirizzi di un'immagine gli indirizzi link di un'immagine ma i link di un video per semplicità e per dimostrazione adesso proviamo a fare un esempio insomma con con youtube prendiamo un video qualsiasi salta sfere basta ma proviamo a cercare altre cose di sfere basta vediamo se ne saltano fuori bene prendo questo esempio qua prendo questo sito di sfere e basta allora adesso supponiamo che mi arriva un link nel quale c'è una scena allora mettetevi nei panni di Amnesty International ricevono un video dove ci sono scene di tortura scene in cui vengono negati i diritti umani insomma ecco violati i diritti umani e che cosa fanno prendono lo postano subito sui loro social senza andare a valutare la ponte chiamando tutti all'indignazione no naturalmente andranno a fare un'analisi adesso io vi sto prendendo il video un esempio di un video di un cantante per dirvi che funziona con qualsiasi video che sia stato in qualche modo pubblicato su YouTube che ne so durante una manifestazione durante una guerra durante qualsiasi tipo di episodio in cui ci possono essere eventi drammatici naturalmente spesso i video li troviamo disponibili anche su YouTube quindi come funziona in questo caso in questo caso copio in alto sempre nella barra del browser copio l'indirizzo torno sul motore di ricerca incollo l'indirizzo del video do l'invio e che cosa fa sostanzialmente questo motore questa applicazione crea dei fotogrammi genera dei fotogrammi del video che io posso utilizzare vedete per far partire e qua torniamo al discorso di prima per far partire la ricerca inversa per immagini per cui se trovo un fotogramma che mi sembra discutibile posso benissimo isolarlo e andare a fare una ricerca inversa per cui Google vedete mi metterà a disposizione tutti i siti che utilizzano almeno una volta quel fotogramma vedete ci sono centinaia di siti che utilizzano quel singolo fotogramma che compare in quel video per cui immaginatevi se si tratta di l'innesto di un video ripeto che rappresenta una scena poco piacevole appunto voi potreste isolare quel fotogramma lì e provare a fare una ricerca inversa e ottenere eventualmente risposta ai vostri quesiti allora devo ancora dirvi qualcos'altro purtroppo mi sono andato un po' in ritardo spero di non approfittare della vostra pazienza però ormai ci siete e io ci tengo a farvelo vedere provate a cercare sul vostri computer appena avete un secondo verification handbook il manuale per la verifica delle informazioni è un sito come dire multilingue c'è anche nella versione italiana è una guida vabbè definitiva la verifica dei contenuti digitali per coprire le emergenze è nato da qualche anno ed è frutto del lavoro di insomma decine di giornalisti che hanno messo a disposizione un menu diciamo di operazioni da condurre tutte le volte che si deve fare la valutazione di una informazione con dei casi di studio annessi quello che mi interessa farvi vedere rapidamente a voi adesso è che nel decimo capitolo strumenti per la verifica voi trovate un elenco di applicazioni web utili per la verifica e quindi la valutazione dell'informazione per cui vedete strumenti per verificare l'identità delle persone che eventualmente state cercando che vi stanno cercando verificare la località le località che sono rappresentate magari in un'immagine o in una qualche rappresentazione insomma che vi viene recapitata verificare le immagini e poi altri strumenti utili appunto sempre per fare ricerca in verso per immagini per video per andare a geolocalizzare i dati adesso io questa cosa ve l'ho fatta vedere come dire se voi la mettete in mano dei ragazzi di 13 anni non sanno che farsi di tutta questa cosa questi sono strumenti come dire per il formatore per l'insegnante che si deve che deve preparare una lezione naturalmente può decidere di spiegare una la funzione di un'applicazione piuttosto che un'altra questo decidete voi naturalmente quali può esservi utile per finire vi faccio vedere un'ultima slide dopodiché davvero finisco con per approfittare della vostra pazienza allora ragioni e tecniche del pazzo finisco con questo con questa slide allora in linea di massima questo vale visto che siamo in un ambito di educazione alla cittadinanza digitale information di it la legge che introduce l'insegnamento dell'educazione civica allora è importante sapere appunto che la falsificazione è un reato e i tre elementi sui quali conviene lavorare sempre con tutti con i bambini con i ragazzi naturalmente declinando in base all'età in base alle loro competenze ecco allora tutte le volte che noi abbiamo ci troviamo davanti a un falso noi dobbiamo capire qual è il movente qual è il corpo del reato e le modalità di esecuzione di questo reato quindi produzione trasmissione e ricezione vedete in questi tre punti c'è tutto quello e sono i tre capisaldi c'è tutto quello che c'è da sapere in qualche modo come come riferimento per poter avviare un'attività di valutazione i moventi ad esempio per quanto riguarda la produzione del falso quindi di notizie false sono sempre i soliti da sempre ambizione sociale piacere di trarre l'inganno odia invidia e ideologia disinformazione attenzione adesso io chiudo la condivisione torno da voi e vi dico ci tengo a precisare questo aspetto lavorare sulla valutazione dell'informazione non significa che bisogna lavorare sulle fake news questo di lavorare sulle fake news è come dire un'urgenza un'emergenza che abbiamo ora in questo contesto storico dove ancora non riusciamo bene a divincolarci tra tutta questa massa di informazioni che ci assale ma piano piano penso che impareremo a filtrare sempre meglio è importante che io vi dica che la valutazione dell'informazione è qualche cosa che riguarda anche informazione positiva in realtà voi potete anche mettere davanti ai ragazzi mettere i ragazzi davanti a che ne so due voci enciclopediche la Treccani e Wikipedia fargli leggere entrambe le voci enciclopediche e dire fai una valutazione della qualità di questi documenti cioè non è che devono andare a scoprire se ci sono cose vere o false non è quello il punto potrebbero essere entrambe di ottima qualità però magari uno strumento la Treccani insiste su degli aspetti mentre Wikipedia insiste su altri ecco quindi questo per dirvi la valutazione si può fare con qualsiasi tipo di documento anche in senso positivo potete farlo con due articoli di rivista potete farlo con due saggi con due romanzi con due articoli di cronaca con due giornali ma se ne viene magari con un patto quotidiano e il patto quotidiano provare a fargli leggere due articoli provenienti dalle due testate e cercare di capire quali sono le differenze anche solo a livello grafico o paratestuale e mi fermo perché ho davvero l'impressione di aver approfittato troppo della vostra pazienza e se ci sono domande naturalmente sono a vostra disposizione di ostese che Grazie a tutti